L'entusiasmo dei fan nell'immaginare John Krasinski nel ruolo di Reed Richards, il leader intelligente e carismatico dei Fantastici Quattro, ha alimentato per anni discussioni appassionate all'interno dell'universo cinematografico Marvel. Tuttavia, con l'arrivo imminente del film sul quartetto, sembra che le speranze di vedere Krasinski interpretare il personaggio siano svanite nel nulla. Le voci sempre più concrete riguardanti Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards nell'MCU hanno alimentato speculazioni sul destino di quella breve interpretazione di Krasinski durante un cameo in Doctor Strange nel multiverso della follia. Tuttavia, sembra che quel momento sia destinato a rimanere poco più di un semplice easter egg per i fan. Al momento, le tracce di Krasinski nel contesto Marvel sembrano completamente svanite. È probabile che quella versione di Reed Richards venga ricordata come una delle molte varianti del personaggio confinate al proprio universo, un destino sigillato dalla furia di Scarlet Witch. La verità è che sembra difficile che Krasinski riprenda il ruolo, anche se è stato un regalo spontaneo degli studios ai fan. È plausibile rassegnarsi all'idea che la sua breve incursione come Reed Richards sia stata un'occasione fugace, un'anticipazione emozionante ma destinata a rimanere tale. Il mondo Marvel è noto per i suoi colpi di scena e le sorprese, ma sembra che il Reed Richards di John Krasinski sia destinato a essere un capitolo breve e concluso, un piccolo regalo ai fan che rimarrà un ricordo piuttosto che un personaggio a pieno titolo nell'MCU.